Ma dove sono i Leoni da tastiera? Che prima stavano scrivendosi i forum Eh ragazzi adesso se il secondo set lo vince Sinner ci giochiamo terzo set Kachanov Anche perché Sinner ha la pelle bianca C'è troppo solo a Miami C'è troppo caldo e Sinner si stanca più facilmente rispetto al russo Ma secondo me Kachanov abita all'Hawaii? Cioè raga ma che problemi c'avete? Eh ma ce lo giochiamo ci metto 1000€ sopra Vince Kachanov sicuramente Calmiamoci, calmiamoci Bella a tutti ragazzi per questo nuovo video con la vostra X-Brizz E oggi andiamo a parlare della partita appena conclusa Tra Yannick Sinner e Karen Kachanov Ha vinto il tenista italiano 2-7-1 E dove sono? Dove sono quelli che hanno scommesso Kachanov vincente? Dove sono i grandi intenditori di tennis, i scommettitori? Hanno scommesso sul meteo? Hanno scommesso C'è il meteo? C'è troppo sole Sinner si stanca più facilmente Ma Kachanov abita in Russia abita Dalla fanno meno 20 gradi Ma forse è il contrario, non lo so Raga ma che problemi c'avete voi? Ma ognuno si può stanca come gli pare, no? Tocca tra sempre il pelo nell'uovo Comunque oggi Sinner ha vinto Il primo set Posso dirlo molto Faccio, molto semplicemente Cioè alla fine il primo set Sinner non ha giocato bene Kachanov ha giocato molto meglio nel primo set Ha tenuto comunque una costante Kachanov E invece Sinner è cresciuto Dal secondo al terzo set Ricordiamo che il russo viene da una striscia negativa secondo me Già dall'anno scorso, anche quest'anno Comunque in ogni torneo vincisi la prima partita Poi il secondo turno lo va sempre a perdere Da quello che abbiamo visto negli ultimi tornei Quindi parliamo di Rotterdam, parliamo di Marsiglia E tornei anche addietro Quindi non è che sta proprio al 100% Kachanov Oggi era favoritissimo Sinner Quindi anche le quote e tutto quanto Quindi magari si sono un po' risentiti loro A dire ma Kachanov perché non è di qua, di là, è là Deve vincere Kachanov Vi piacerebbe Parliamo un attimo del primo set Perché dopo 8 palle break che Kachanov regala a Sinner Nel secondo game a servizio Kachanov Sinner riesce a breccarlo Quindi vanno sul 2-0 Sinner Turno successivo lo ribrecca Kachanov Alla fine c'è stato un breaker break nel primo set Che lo vince il russo per 6-4 Quindi Sinner è stato un po' sfortunato Perché se riusciva a tenere almeno un servizio Secondo me poteva portare a casa già il primo set Dal secondo set è iniziato subito In cui Sinner ha regalato una palla break A Kachanov le ha avuto un po' di paura Perché ha fatto eccala Magari un po' timoroso col servizio La testa e tutto quanto Fortunatamente il russo non riesce a sfruttarla E si va giù di lì Fino al tie break Sinner ha regalato un'altra palla break A Kachanov ma alla fine Anche lì non l'ha sfruttata Tie break vinto 7-2 Per l'italiano Ricordiamo Ricordiamo ragazzi che Sinner sta vincendo La maggior parte dei tie break Quindi tipo l'ultimi 10 che ha giocato Di tie break ne ha vinto Tipo 7-8 Quindi una media molto buona Cioè molto buona Buonissima E poi si arriva il terzo set ragazzi In cui Diciamo che Kachanov non si è mai fatto breakare Fino all'ultimo Allora stavano sul 4 pari Ok Sinner ha iniziato a servire come Cristo comanda Quindi molto bene E Kachanov Diciamo che Si è un po' mangiato Il nono game a servizio Sfortunatamente Poi sono andati ai vantaggi Sfortunatamente per Kachanov Sfortunatamente per noi Sono andati ai vantaggi Sinner ha giocato molto bene Quelle Le due possibilità No? Quindi 40 pari Vantaggio E porta a casa il game Quindi Prendo il break Ha giocato molto bene Su 5-4 Sinner Poi va a servire per il 6-4 Riesce a portarsi a casa Grazie comunque Ad un buon servizio Che poi ha ritrovato all'ultimo Quindi molto molto felice E niente E quindi va a portarsi a casa questo sedicesimo E Vi dico subito Contro chi giocherà La prossima partita Perché ragazzi È una cosa importante Perché Eh 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 Devo sempre vedere Sinner giocherà Contro Ehm Il vincente Tra Rusvori e Himer Adesso Non so Se hanno già giocato Rusvori e Himer Andiamo un po' a vedere Perché Ok no Deve giocare Rusvori e Himer Ok Ok Ci sta Ci sta Quindi come Ottavo di finale Ci sta Secondo me è una partita Molto facile Rispetto anche a Kachanov Perché Kachanov Sì è vero Tutti dicevano Sì è facile È facile È facile Ma qualche insidia russo L'ha sempre creata E anche oggi Ha creato Molte insidie a Sinner Detto questo Io spero che Sinner Possa andare molto avanti In questo torneo Ieri Fognini è stato fermato Sfortunatamente Da corda Però devo fare i complimenti a Sonico Che è passato Quindi molto molto bene Abbiamo ancora Sonico e Sinner Dentro il torneo Giusto Non è che mi sto dimenticando Qualche italiano Perché Fognini ieri È stato eliminato Quindi Se faccio qualche gaffa Ragazzi Ditemelo Che qua non si sa mai E no Ok Tutti gli italiani Sono Li ho nominati Sì Perfetto Perfetto Quindi Dal vostro XB è tutto Lasciate un like Commentate Iscrivetevi Io vi do un bacione Ci vediamo al prossimo video Sempre Forza Sinner Sempre Forza Italia Sempre Forza Tennis Grazie a tutti Grazie a tutti